Siete nati per aggiungere qualcosa, per aggiungere valore a questo mondo. Siete nati per dare il meglio di voi stessi. Qualunque cosa abbiate vissuto finora, qualunque momento difficile abbiate affrontato, è tutto servito a prepararvi al momento che adesso state vivendo. Ora sapete di essere voi stessi a creare il vostro destino. Immaginate le cose che potrete fare da ora in poi, con quello che sapete adesso. Come vivrete certi momenti? Come li affronterete? Nessun altro può ballare il vostro ballo, né cantare la vostra canzone. Nessun altro può scrivere la vostra storia. La vostra vita e il vostro futuro iniziano ora. Sono convinto che siate grandi, che in voi ci sia qualcosa di meraviglioso. Qualunque cosa sia accaduta nella vostra vita, malgrado quanto siate giovani o quanto vecchi pensiate di essere, nel momento in cui comincerete a pensare correttamente, sentirete emergere in voi un immenso potere. e non c'è potere maggiore al mondo. Lo sentirete emergere, pervaderà la vostra vita. Vi nutrirà, vi vestirà, vi guiderà, vi proteggerà, vi dirigerà. Sarà di sostegno alla vostra esistenza, se lo lascerete emergere. Ed io posso garantirvelo in prima persona. 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 Grazie a tutti.